Ciao nonno, che vuoi? Un film di guerra. Ma dove hai fatto la guerra? Certamente ho fatto la guerra. E chi ha vinto? La nonna. Chi che l'ha visto? Il primo giorno che l'ho conosciuto si appiccicava questo sì e questo no, quest'altro sì e quest'altro no. E' proprio un sosseguersi come una sanguisocchi che tutti i giorni gioventù per 50 anni con il più ampio respiro, come una abbastanza trasformata. Va bene. Ci vediamo. Ciao Biaggi, ciao, ciao, ciao. Ehi, non ti sposare. Ok.